La mia politica è lasciare tutto all'aperto che la gente fa parte della vita quotidiana. E' vero che viene pulito tutto questo, è difficile. Ma sono qui anche... No, no, questo non stanno... E' la mia tutela, adesso è una benedizione. L'86, ecco, fra l'84 e l'87. Poi le brutte cose hanno cominciato a essere costruite. Costruite nell'87. La mia tutela, l'agenzia, avete sentito ieri Khalifa che ha preso il posto ultimamente. C'è la mia genzia qui, l'angelo, quella casa proprio che sta vicino agli alberi, no? Quella gialla in fondo, in fondo. Lui bene in moderno conosco. E ho cominciato ad avere problemi con la mia tutela. La mia tutela, lui e altri, ho cominciato a sensibilizzare proprio la mia tutela. Poi ultimamente... Questa c'è un negativo 6 per 6. Sì. Ho la mia impressione che siccome... ... Ecco la sede amministrativa. Ecco... La bellezza, questa. La bellezza estetica. Ecco, più bella di più. ... Tribunale. Ah, il tribunale mi pare più elegante. Questo è anni 40, 50. ... ... ... ... ... ... ... ... Che vilana l'antica! Che vilana l'antica! L'ho fatto con l'isolato? L'hai preso con l'isolato? L'ho fatto con l'isolato con l'isolato. L'isolato 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 con l'isolato. L'isolato con l'isolato con l'isolato. L'isolato con l'isolato con l'isolato. 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 Grazie a tutti.